bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video e io sono xyuder e oggi ragazzi mamma mia siamo su clash royale lo stanno vedendo abbiamo cambiato un po lo sfondo molto natalizio si questo qua in realtà è scopa d'assi però con le carte di clash royale no ragazzi siamo qua perché abbiamo un chest opening fighissimo da fare come è nostro consuetudine portare su quello mio esatto portare dei bei chest opening mica le cagatine esatto come state vedendo ragazzi abbiamo un baule magico là in basso che andremo a gemmarci sicuramente tra pochissimo e non è finito ragazzi delle missioni guardate guardate doppio baule magico per noi ragazzi la pamina ha il doppio baule magico quindi lo andremo ad aprire sicuramente in più poi cosa abbiamo siccome io oggi mi sono già presa le sfere infocati hai comprato la roba cosa c'è ma non puoi spendere 500 per il leggendario dai beh io fossi in te mi comprerei gli sgherri ah no 30 no 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 30 gemme per 60 sgherri no vuoi potenziare il cavaliere se lo stai usando vuoi portarlo a livello 12 e allora andiamo dai vai andiamo a potenziare così ragazzi andiamo a potenziare il caballeros 50.000 di gold caballeros ragazzi per la pamina prima comune al 12 che hai mi sembra livello 12 800 punti esperienza e allora tira su anche lo spirito del ghiaccio e facciamo proprio non lo so perché quello non mi piace molto vorrei cambiarlo ma quello sai cosa ti serve non ti serve per fare male comunque non siamo qua a parlare di che cosa ti serve lo spirito del ghiaccio andiamo a fare andiamo a fare la prima partita ozza ragazzi e poi andiamo di là ci schiare con il nuovo caballero saldo e ci prendiamo i bauli magici non vedo l'ora comunque lo spirito del ghiaccio ti serve per far girare le carte no perché costa uno lo puoi buttare giù butto giù veloce perché io voglio quella dopo no quindi butto lo spirito del ghiaccio anche dietro e ho la carta dopo no allora attenzione così entriamo già col gigante noi stiamo come un pazzo andiamo anche con la strega notturna e dietro al giant gli mettiamo gli sgherri così lascia del boia non dovrebbe colpirli e invece con un vortex ma non mi dà preoccupazione la tornado al vortex che scarica tirata male avrei potuto giocarla un quadratino più in qua e avrei fatto più male comunque qua andiamo a palla fuocare perché la prima bene bene la fireball molto bene andiamo a fare male anche noi vedi qua ad esempio noi possiamo fare una cosa del genere no giriamo lascia del boia di qua lo spirito lo metti qua se ti tira il barile no alla peggio alla peggio ti blocca un goblin non potevi fare nient'altro ti ha fatto un bel attacco 1718 1756 con cavaliere al 12 ragazzi 200 quasi a hit il cavaliere al 12 fa veramente veramente male ma la pami non ha ancora fatto vedere nel suo deck la carta più bella ragazzi la strega normale che ha a livello non sa neanche i livelli delle sue carte si a strega normale ragazzi a livello 7 e la sta chiedendo praticamente da sempre da quando la scoperta perché le piace una fucilata è vero è vero è vero è vero se io giocassi un gigante di la bene che noi abbiamo il boia che va a colpire il gigante va benissimo va benissimo il gran cacchione va benissimo perché noi possiamo aspettare la fireball per andare eventualmente poi anche sulla sua princess e forse prendiamo anche il boia si tiriamo via il boia ragazzi fermiamo il gran cavaliere e la strega a livello 7 che va dentro ma io infatti vedi li ho congelati con il co no ho tirato una scarica volevo volevo indicare invece avevo selezionato la scarica come al solito fa niente fa niente fa niente siamo messi bene siamo messi bene perché abbiamo la strega direttamente sul barile vediamo se riesce a fermare l'attacco è vero è vero e lanciano anche i coriandoli non si sa bene perché ma avanti al tipo per me certo che poi sono io bene così la farbo che tira via sia gli pipistrelli che la princess peccato per l'ascia non si salva la strega gigante viene fermato in tutti i modi ma all'undici tira comunque un colpo contro carlos 9669 ustrega 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 papuchis elite papuchis elite andiamo a fermare tutte le truppe lì ragazzi e qua abbiamo counterato molto bene in realtà il suo barile in questo modo possiamo aprire con un gigante spostare forse le asce esatto dei due boia andiamo a scaricare la strega va a colpire il suo barile 7 secondi alla fine e credo che la partita sia tranquillamente vinta grande così grande così andiamo a portarci a casa il risultato è assolutamente chest opening più che meritato lo lascio tutto a te lo lascio tutto a te perché gioca leggendaria c'hai anche una missione attenzione ragazzi chest opening apriamo prima il baule della corona vai quello che vuoi è tutta roba tua baule della corona 5 skip 679 di gold molto bene 3 gemmine 3 quasi mille gemme hai una cura vergogna una cura con 3 skip 3 fornaci che non le usi secondo me la fornace 5 stregoni la fornace col gigante la devi usare oh il barile questo ne ho 1022 non le puoi potenziare e non so e guarda col gigante puoi potenziare qualsiasi carta col gigante all'11 proprio tranquillamente andiamo a aprire le nostre missioni baule magico baule magico buia buia attenzione 8 skip 1320 di gold molto bene molto bene attenzione abbiamo 14 barbarozzi scelti mi raccomando ragazzi qua dovete mettere un bel like perché bisogna trovare la leggendaria se non lo avete ancora fatto lasciate un bel like per i nostri chest opening mega poveridiani e iscrivetevi al canale attenzione 16 gandy goblin non ti serve non ti serve 22 22 non ti arrivi dai che ti arriva la leggendaria 23 giganti royale mamma mia mamma mia due skip 27 barili d'ossa mamma mia arriva non c'è la leggendaria mi sa che questo bolle fa un po' caccare è un po' brutto è questo attenzione le epic poteva darti almeno 4 streghe manco quelle manco quelle primo baule magico guardatelo che schifero neanche una carta che usi neanche una carta che usi vai a prenderti la ricompensa guarda cosa c'ha il baule leggendario ma c'hai una fortuna incredibile ma dai andiamo a prenderci la ricompensa ma che fortuna che c'ha veramente incredibile ne abbiamo un altro però di baule da aprire vai vai andiamo a farglielo vedere gemmiamolo con 3 gemmine ci può stare è questo uguale a quella eh no qua i 7 skip prima ne avevi 6 non lo so non lo so era uguale 7 skip uguale peccato molto bene 3 cannonauti di sicilia o di sardegna sono i cannonauti sicilia non esistono 6 sgherri ma non ti sta dando le comuni ma cos'è 19 scherri la vedo brutta la vedo brutta la vedo grano 21 cavalieri la vedo brutta ma si dà sono comuni ma scusa ma che cacchio di baule magico è questo una merzia ragazzi mamma mia niente leggendaria mamma mia ma questo è proprio merda no ma che sfortuna mi dispiace altro che laica qua eh mi dispiace mi dispiace davvero non trova neanche una leggendaria nei due bauli magici però direi ragazzi che brutta roba roba però dai non è colpa loro saremmo più fortunati in questo speriamo dai l'ultima partita l'ultima partita non dare niente l'ultima partita ragazzi poi ci salutiamo dai giusto per vedere se almeno riusciamo a fare una bella e blanda figura contro Aiko degli Interlox 4078 trofei per lui qua possiamo fare un'apertura a meno sgamo si dice quindi con la strega dietro lui apre con un cioè qua l'ho aperto con un gigante al 9 ok prot gigante all'11 prot attenzione così ragazzi col giant all'11 quando mi pallafuocano la strega eh lo fanno apposta lo fanno apposta ma in realtà dovresti essere no no dovresti essere felice perché loro vanno sotto di Elisir a pallafuocarti la strega che è rimasta viva tra le altre cose tanto noi abbiamo praticamente fatto il giant al 9 il nostro gigante all'11 è andato là di prepotenza e qua non so se valga la pena metterà una fireball ma la tiro comunque è per la princess siamo tornati sotto noi di Elisir di 1 qua ma abbiamo 2340 punti salute alla torre di sinistra contro 1504 della sua in alto a sinistra quindi lui non sa che noi abbiamo la nostra strega a livello 7 quindi potremmo oh piano 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 va bene va bene vedi cosa serve lo spirito vedi lo metto qua mi costa 1 prot me li congela libero tutto vado con la scarica tolgo due cosi e questo si va bene una hit due hit ma tu hai una strega full vita però sei sotto non lo so non sono 636 no non guardare non devi guardare quello devi guardare oh ha missato la fireball ha missato la fireball abbiamo due streghe che entrano ragazzi abbiamo due streghe che entrano e qua facciamo male dovremmo far male in teoria non hai niente per tirare via va bene non serve tirarli via non serve non serve va bene guarda la strega fa male se entra sotto 1 solo un attacco peccato peccato ma qua spingiamo e no ma gli ha dato vedi i vampiretti i vampiretti sono i pipistrei i vampiretti andiamo dietro andiamo dietro con gli sgherrini lui non ha elisir credo e quindi entriamo con gli sgherri ok lui stava aspettando di tirare no ha giocato molto bene in realtà ha giocato molto bene abbiamo comunque gli sgherri che vanno a danneggiare e qua io andrei con una fireball abbastanza in predict per fermare un po' tutto lui pensava di riuscire ad entrare invece si è un po' stupito andiamo a fermarlo con la zap ragazzi molto bene 1232 ci chiudiamo tutto in difesa vediamo buonissimi buonissimi questi sgherrini ti salvano alla grande la tower ti salvano la tower di brutto e boh c'è solamente un paio di skateri che se ne vanno lì piazziamo un bel gigante centrale qua partiamo con l'attacco abbiamo la strega notturna che continuerà a generare bella quella fireball sul giant vai che andiamo vai che andiamo dai 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 mettiamo comunque qua gli sgherri ma penso che guarda che hai visto lo spirito del ghiaccio che per uno li ha bloccati completamente cioè troppo forte blocca blocca troppo forte andiamo a fermare di nuovo cavaliere davanti 16 secondi alla fine potremmo aver fatto l'unplane cioè vincerne due su due non lo so però mi ha fregato oddio 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 43 a 4 3 2 1 la vinciamo per un pelo mamma mia va bene ragazzi va bene direi che per oggi il video può finire qua noi ve lo ricordiamo sempre ragazzi di lasciare un bel pollicione in su un bel like di attivare sempre la campanella e di iscrivervi al nostro canale esatto noi ci vediamo presto ciao